La collezione Mazzolini ci ha abituato a grandissimi capolavori della cultura pittorica e scultorea italiana e ancora oggi riusciamo a scoprire un altro capolavoro, un quadro di Giorgio De Chirico, una piazza d'Italia, un tema importantissimo per poter comprendere la rivoluzione artistica apportata da Giorgio De Chirico all'interno del panorama mondiale del Novecento. L'opera protagonista di questa puntata è un quadro di Giorgio De Chirico intitolato Piazza d'Italia e datato 1956. Il tema delle piazze d'Italia è un tema cardine all'interno della produzione di De Chirico e ci è utile per comprendere la pittura metafisica, l'invenzione di De Chirico all'interno della cultura figurativa italiana, europea, ma non solo, anche mondiale, quindi di ampio respiro internazionale. Un sole al tramonto proietta delle ombre molto lunghe, molto grevi all'interno della composizione, non soltanto la statua che campeggia nel mezzo ma anche le stesse architetture con queste arcate molto snelle che in un certo qual modo corrono lungo linee prospettiche in esatte verso l'architettura centrale, questa torre, doppia torre rossa che si staglia su un cielo quasi irreale, dai toni molto acidi che partono da un verde quasi nero fino a un giallo accesissimo. Ebbene questa architettura ha una reinterpretazione del Tempio di Ercole Vincitore, ancora oggi visibile a Roma, come la statua che campeggia nel mezzo è la statua di Arianna, una statua di epoca classica romana conservata presso i musei vaticani. In tutta questa composizione si legge un senso di inquietudine, di solitudine, come l'incontro tra questi due uomini in questa piazza assolata e desolata, una stretta di mano quasi a voler rievocare un'unione, una fratellanza in una disperazione, in una desolazione che in questa composizione riusciamo a vivere e a leggere, riusciamo anche a trasportarla all'interno di quelle che sono le condizioni che viviamo oggi, un po' di solitudine, di emarginazione a cui la pandemia ci ha un po' abituato. In tutta questa composizione, che appunto abbiamo letto in una chiave molto enigmatica, un piccolo treno sbuffa una piccola nuvola di vapore quasi ad indicare una realtà che comunque cambia, una realtà che va in movimento, che in un certo qual modo sta a cozzare con invece la staticità di queste architetture, di questa statua e di queste figure. Dunque è un'opera che ci permette di avere chiavi di lettura molteplici e che ci permette di fare delle riflessioni per nulla anacronistiche e che sono all'interno della nostra quotidianità.